Con... John Cena! What the hell? Oggi siamo al mare Facciamo un vlog al mare, vero signor John Cena? Aia! Non posso competere contro John Cena Oh, Filì, io posso competere contro John Cena E' come se posso competere contro... Io posso competere contro John Cena Ragazzi Ti vedo come un giratubi Raga, ecco quando diciamo Allo scuolo! Ma to' dato una giratubi Ma to' d'altro una giratubi Ma to' d'altro c'è pochissima vita C'è pochissima vita Per forza t'ho dato un giratubi sul naso proprio Ti dico la live pure io Scusa, ho dato una barcata in faccia Mi sa che stai affogando Ah no Ti ho visto la carne Tristiamo con la parking Attenzione! Eh... Filì... Che cos'è ne stai facendo? Sta facendo stile libero Ceno... Puff a testo imbarcando con la barca normale imbarcando con la barca scusa ci sono finito sopra almeno non puoi più di emergere e affogherai ah no scherzato ciao ragazzi ragazzi ben tornati in questo nuovissimo video io sono golden pippo e oggi siamo con alessio mi no scherzavo non sono alessio mio i'm a joshida ok ragazzi sono tornato nella webcam abbiamo fatto il ritorno su gt a 5 ragazzi grazie a me che gli ho detto di riscaricare feli ti fa volare questa cosa il mare ti fa volare forse ho porteggiato un po troppo in là vabbè ma poi si è guardata una barcata addosso feli fai un tuffo addosso john franzo che schifo da battuta che uccido raga non va più la barca tu hai una gomitata nel naso sorry non sapevo tuo avessi così poca vita ti vengo a prendermi dove tu hai scelto angolo ecco te sto arrivando ciao bellissimo cosa stai cercando di fare io ne ho deciso ma io già capisco a non buttato barca non finirà sugli scotti arrivo papà eccomi watch possiamo andare ma io mi chiede ti voglio bec buttiamolo di sotto da barca sto sgorbio ne ho il cazzo starronzo adesso vieni mi a prendere come ho fatto io eh io sto qua ah ciao non ti avevo visto guardale un cd mentre guido può buttare sotto guarda che figata ok però mi devi shottare prima prendi il pompo testa testa ops guarda buttamolo sotto perchè devi guidare tu vabbè adesso basta dai vieni mi a prenderi cioè o almeno so io vieni mi a prendere devi rimorire perchè no perchè tu mi hai ucciso due volte ciao buca no sgorbio vai sulla sabbia niente no oddio io vedo il mio personaggio stesso a prendere il sole e anche l'acqua vieni però davvero bello bello watch oddio professionista raga guarda vi facciamo vedere il tuffo dello yacht ah c'è un'altra barca vai Ale tuffo ti so adesso al fianco dello yacht si aspetta uiiii boom cioè prima ho dato una facciata alle yacht poi mi hai travolto tu ok ragazzi faremo anche delle gare di deathmatch in questa live ovviamente ciao vero Ale si si però le live cioè queste cose non saranno tra me ma cerchiamo di trovare qualcuno che gioca online ok adesso il tuffo dello yacht il faccio io no no te lo volevo fare John C ahia per prima che mi hai dato un pugno sali sulla punta però sali sulla punta rrrraven andiamo ma donna cragnata golden pippon vai tuffo ti ho il tuo tuffo to' schiacciato finito schiacciato mi dispiace no io sto salito sopra l'ho yacht col tuffo no io t'ho visto che praticamente tu ti hai tuffato qui sul fianco io ti ho schiacciato mi lascio io te l'ho schiacciato si è partito via madonna un culone vabbè adesso devo fare io no perchè mi hai tuffato aiuto ah se posso non c- quoi le cose degli altri ciao no stronti ti faccio esplodere se non vieni con assoluta con la barca dopo la barca c perché noi siamo magari guardano aiuta sono incastrato sotto la barca e questa qua è quella data per fare i tuffi caso però devo fai io no cosa sta facendo siamo con il corpo non c'è per scettare non è colpa mia una domanda apprezzato lo shaftoni dai che picchia la barca fanno cose che bombardino ci sparino gli sparino anche io non ci spara no col pompa no il balletto basta 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 non c'è più voglio ok dai guida io vado sulla punta però devi andare là dove c'è proprio l'entrata dello yacht diventa guardami che spasmi scusa se ti ho messo i piedi in faccia non volevo su un bambino bravo sembra che stai facendo un'altra cosa non è quello che pensi mai lanciati stupido e giustano a botone che volo che ho fatto non ci danno le botte con la barca aia ho dato una piccola in facciata vabbè dai tocca a te stiamo per buttate sotto per me cosa che tu vuoi volete fare a ma dati un bacino ti vogliono bene non lo può fare solo ok deve scegliere sulla punta ti andiamo non mi dai ordine fitto vai mi oddio mai ma lo cosa stanno facendo qui in motoscafi di stupro no no allora il scopo male scegli la parta la bombardo eccoma per un donno aspettami faccio subito una cosa che deve fare arrivo finito sto io sparo al cinque uii ops tre no 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 due fili guarda ti faccio vedere una cosa prima uii perfetto ma no no se restavo sopra lo yacht se stavo per restarci fili voglio incastrare la barca sopra lo yacht e dopo la fai esplodere ah poi la marana va bene mi butto scappa scazza la nostra barca scazza la nostra barca ok ma che cosa arriva scantiamo nella barca al 10 la faccio esplodere uno due non parte fili non parte allora scendi aspetta ma sei rotto il motore allora scendi sono una canica fermo vabbè a sto punto facciamo i tuffi dall'elicottero sempre se no mi sa che non ci fanno i tuffi dall'elicottero se l'elicottero è cappottato vabbè c'è quest'altro meglio di niente scordi l'elicottero è cappottato ce n'è uno al dritto e quello è cappottato però aspetta mi faccio scendere non si possono più guidare mi ha fatto scendere ahio distruggiamogli tutto ecco eh eh intanto me ne sto tranquillo fili tipo esplosi gli elicotteri io me ne sto tranquillo così tac fili guardami come me ne sto tranquillo intanto ne esplosi gli elicotteri no sono vai all'età di andare arriva eh non ci voglio io prima voglio andare un po' l'idromassone che c'è la lava ma non è spesa la nostra barca non partono non si accende adesso adesso cosa è arrivato io mi faccio trasportare dalle onde anche se faccio prima a piedi però oh ok what the fuck fili no guarda la mia live e metti indietro cioè allora dove si guarda cioè guardala dall'inizio praticamente perché ne sono baggato ne sono baggato dentro la barca aspetta dal viven sto arrivando non partono non ti accende e io ho preso cosa è arrivato qui ho preso l'isola magari non si fa da la barca è pericoloso scicci ma tu dove sei nel mare più o meno vicino a me stiamo insieme insieme aspettami 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 vengono incontro facciamo fare sport ai nostri personaggi ti vedo ultima ariani sott'acqua ciao andavo sott'acqua e la ricetta felici sono quattro spettatori da mia e da chi e io ero e di chi è no chi siete voi vuoi chi è sorana ciao figli ciao ciao wow what mi sei bagata vedo da sott'acqua la barca cioè vedevo da sotto 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 acqua e che ero lontano la barca ma tu vai tu vai sott'acqua sott'acqua è più veloce a parte in questo gruppo no scherzano asciughe detto una macchina bella l'ho appena comprata quindi non l'ho ancora modificata quando c'è più saltina modifico da bennett come ho fatto con la bennett brava del banshee raga oh c'è poca vita stupido ok la smettano scappano yeah andiamo a fare le gare oh basta asciughe asciughe mi chissà di capisci ma se non vediamo il regno nazionale pescini si è arrivato a lungo la fine vogliamo arrivare il vivo che mi fanno vedere il giochetto con lì della rampa e la marca c'è adesso da seminare a pulo testa sopra ti faccio la copertura almeno non è come tutto c'è per passando non bevo da rimbuto sarà che devo innaffiato il prima di spesa che ti chiedeci in voli o digni se non mi dite chi siete uscite dalla live vi brucerò la casa tanti ti sento se non ci dite chi siete vi stupro stupro più siamo alessio cattivo non ci stuprono le persone a volerci a dire non santi ti vengono a prendere un punto su sott'acqua come viene a prendere a fondo la faccio esplodere no esimilata te l'ha detto che hanno no ma potersi anche l'hanno scritto nei commenti perché io la barra dei commenti in cielo messo nella live forse si conti l'hanno scritto l'hanno accaduto il cittadino roma il vestito voglio vedere chi è baione io mi preparo già qua a signori di guarda che spargo lanciarazzi sta ridendo da voluto uccide arriva mi hai fatto un cazzo io ti vedo sempre che ti prendo ora che io ancora non sopra l'affare e io ti vedo sull'acqua ecco ti ciao qui buongiorno no mi ha spostato manco del millibro io ti vedo sempre che voli via invece non è vero ti vedo ciao ah non si fanno queste cose aiuto ragazzi potete anche dalla mia live strusi andiamo in dandana 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 aiutati ti ho visto sopra la mia barca aspettami non si sale sulla barca salta la gara aspetta adesso fa anche un attimo aiutati salta la gara aspetta sono ci sono entrati saltabili sono affondato e ci ha chiamato la gara ti vengono salvare io ma va a farlo io vado a fare la gara ma dopo tu mi invita e' certo che non si e' facciamo quella che alle due si piace tanto tanto quale? quella delle rocket volti no non da che cazzeggia facciamo una gara no facciamo una gara una gara una gara normale un po' la facciamo ah beh e' ma io mamma l'ho avviata ma ma c'è tanto se c'è tu l'host eh? mhm no ma io mi dico quella in cui sei tu l'host in cui l'host è un altro se ne sono due quelle ma non la cerca tu allora va bene e' una semina la pula ah sta affogando bravo thank you much dai puro levatemi dal cazzo tanto non me trovate che siete idioti quello e' un poco masico Sara ci siamo aia 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 ma le rocket attivita non mi dà un video se ho ringoio nido partita partita veloce partita lento veloce andiamo in boom e non lo so sono sempre quattro mi so intanto ho buttato stavo per cadere dal letto e ho buttato due in mare ok ho investito tutti aiuto raga sono caduto giù sotto sono caduto giù dal letto si uiii ok i miei deputatori i miei amici dell'elenco dei miei amici alessio meglio t'ho invitato grazie siano scettate t'ho accettato? io sto entrando no ancora a me mi dice ancora a me mi dice che tu stai entrando io sto entrando no l'ho accettato no l'ho accettato è piena è che snega c'era c'era da c'è un po' ma che ma no raga sono sono bloccato mi sono baggato no non ho finito il tuo invito avvia 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 la tu perché tanto sei uscito fa la tu dei fa option online attività il fan non ci gioco da più tempo di testo gioco non credo partita veloce spec non ci gioco abbia una gara dopo e dopo un video scusa il disagio sarà stupido di chai aia sto entrando per sbaglio raga ha imbarcato la gente che sbaglio anch'io per sbaglio prima o siamo facciamo in abbastanza dai hanno avviato vabbè uniscite dopo di metterlo di gioca che vuol dire hanno avviato la gara uniscite dopo un atto di gioco a voto voto di gioca dai fa schifo ste macchine fanno partecipa alla sessione non so se sta entrando ok adesso io ti dovrei guardare e poi dopo io penso del giocamento guarda che schifo di macchine ci sono vado a prendere un caociù ti porterò nell'impresa perché sarà troppo difficile si si è difficilissima e ci sono tiè sbanda fuori raga ma che cazzo ah grazie per la spinta aia oh ma hanno fatto eh appunto la merce loro io non ho fatto niente fronte a scena io io sto guardavano a tutti qui intorno che drift co fatto uno schifo queste macchine con lì che va sbatte pari ma io ho un bambino cosa sono secondo avanti con lì avanti del chilometro no ho rotto mezza città però vabbè non ci credo sta vincendo un 90 è mio perché c'è rango più scherzo del tuo tifo c'è più forte troppo ne infatti queste macchine che fanno schifo non ci sono abituato e invece loro so perché ci l'hanno certo ci sono poveri di certo che ce l'hanno se non sono poveri sono ricchi come fanno ad avversare ora le può comprare tutti 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 c'è dai are a mio secondo per me e non può darsi che ci arrivo di sicuro perché non c'è guarda quanto indietro quello non ci riuscirò mai ad arrivo primo però sta macchina va troppo lenta quello del livello 90 è primo? è concluido in prima posizione e anche io concluderò in seconda posizione questo è bravo poi è che bravo è che brava guida è è è è è è è è finito ha finito la gara lui chi? qua è il primo tu hai abbandonato Ale? no perchè? io l'ho finito aleve come l'ho finito? ha finito la gara quindi quando sei arrivato secondo bravo alia ma questa che sta facendo fk non lo so ma che stanno fa questi non so scemi abbiamo mai addios raga avete perso ma sto anch'io diciamo su due minuti quasi tre minuti in gioco per mila dollari e preso allo come fatti saperlo posto ho visto il primo ha preso 4690 3260 e vivo sono un uomo completo io 3.000 o 3.000 auguri e mai ma è stato che testi nero non mi ha fatto fare mio no 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 quelli in basso a sinistra è bellissima pia quella no perché sotto l'ala ha vinto sotto l'ala ma che tocca fa e boh non ho mai fatto quello prosto però quella lì che ho votato io era spettacolare madonna a me l'ho votato visto perché gioco il territorio mi piace un ucci chiude più rima della dg alessio mia è un grande grande dei gra sto entrando in centrato belli dei zii io no scherzando ragazzi farò un blog forse con un mio amico e non è adesso meglio mi dispiace ah raga ci siamo scordati di dio che forse se ci mettiamo d'accordo faremo un blog ai sui raga noi dovremmo fare un blog quel già un giorno però quel giorno che cosa è successo ti rubiamo piove e la madonna quanti siamo c'è un pochissimi in filiera c'è un pochissimi 2 sono due se pensiamo io attendo quello che potremmo fare in chitta ah ma m3 3 giri e poi è corta la gara che è un chilometro e due chilometri più meno diciamo d'accordo c'è quella che avevamo fatto aiutare che è da 6 km e mezzo giocarono per 3 giri vada sto macchino a me fa schifo vale metti il colore crew ecco messo ecco messo oh ciao siamo vicini ehm fili la nostra mossa ehm collegati qui c'è un pochino ma lì 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 adesso mi vedi con la macchina di sto colore eh infatti ma madonna questo ci dà il turbo ma che cazzo di macchina c'ha quell'altro basta ma è vero aiuto non sono riuscito a partire col turbo dai basta oddio scusa no aia eh non ti preoccupa sono sbandata anch'io sono sbandata anch'io vuoi dire godo eh anch'io godo su te se ma sei tu che mi sei venuto addosso io sono ultimo scherzavo io sono quarta bello vado una toppa ciao ti vedi sono settimo no non mi ha preso il checkpoint io sono settimo eh io sono dodicesimo perché sto gioco di merda non mi ha preso il checkpoint sono sesto raga mi sa che sta gara io non arrivo manco sui primi cinque mezzo mezza ma anch'io z z è questa qua madonna si vive veloce nel republicanifornia senza vita questo checkpoint si vive velocissimo nel trump ha letto oh ma chi è e oh te la ti vedo e gi watk aha oh fig beh ah li pare che abbiamo sbagliato strade toch ti te la ti amo simboliza guarda non ci guarda non andammo d'ossi io tè e se me ristringere mi come faccio in gitta borsa la scia non so la scia questo è sempre ma dai che seco non mi ha buttato giù ci voleva buttare giù madonna manco tutti i checkpoint io no attenzione madonna figlio dai raga settimo eh io sono finito il sedicesimo cioè il tredicesimo ah dai chi è questo e io lo ti fico c'è uno con la storia no ma presa la scia chiedente casonetti ma madonna osti scegno ma non lascio il cazzo il cazzo? il cazzo? il cazzo il cazzo netto il cazzo netto io l'ho beccato il cazzo netto golf come ha fatto se è golf a concludere in prima posizione? non lo so ucciso questo boom dai non l'ho buttata presa son quattordicesima io sono ottavo mi basta una delle più belle diciamo no non preso la scia eh a me me l'ho presa anche troppo ah dai che pagna sti robbie mi ha buttato fuori gara è mosso decimo e lo settimo un fiù di puttana mi butta fuoristrada l'ho superato all'ultimo l'ho superato all'ultimo che è il pezzo di merda andiamo a me che c'è arrivato no però a dettagli e io invece sono arrivato quattordicesimo sto arrivando ok che cazzo stai facendo io l'ho finito no io sono quattordicelli allora era nanti io sono arrivato a uno per fortuna io ho preso un gp e mille dollari aspettate un attimo aspettate la che veloce no no raga non so manco quanto sono arrivato ho dovuto andare da una roba figlio il freddo figlio il freddo è arrivato no 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 ho vinto 80.000 dollari tu hai le vinto 1.180 io ho vinto 6.000 io guardo la live delle schermi questa figlio il freddo è rimedela di bg figlio hanno messo un commento guarda che c'è no si a me mi dice che hanno messo un commento figlio il freddo è rimedela di bg cosa sto vedendo guarda che c'è sta venendo un bimbo bello fiero di me lo dico cacando il 200.000 30 spostro eh no sto lavando non volevo dire sto sto lavando fiero di me lo dico urlando 130 stupraio è lavando quando carica fiero di me lo dico ma non la fiero di me lo dico fiero di me lo dico due persone e due commenti coincidenze io non credo eh? due persone due commenti coincidenze io non credo ma io guardo l'altro commento no non sta vedendo no sta vedendo un bambino bruttino ale ha detto che sei brutto grazie grazie lo stesso dimmi come tua madre quale poco ma sicuro pensi che sia solo un giro o quanto ci mette un traccio tre commentoni aspettate raga guarda anche la lima colore più ovviamente ma è ancora non sono entrato sulla gara io ci vedo e non ci so a me mi è caricato all'infinito ale guarda che la gara è iniziata non sta caricando ancora è iniziata la gara ormai è entrato? no no non 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 Eh ma io non ci so sulla cara Dai vaffanculo Mi hanno fatto già sbattere Dai vaffanculo Dai la ripeti Dai vaffanculo Dai vaffanculo Eccle il ritorno di Alex Emigian Aspetta S'entrato? No E lui? No perché è riuscito dalla webcam Scemo Sto recuperando a due Bravo Ah uno c'è Uno c'è schiantato Anche io non l'ho schiantato Allora Tanto deve stare tutto il tempo a fare il caricamento La live finisce qua E noi ci vediamo ad un prossimo Nvidian Hello motherfucker Scherzo Scherzo Grazie a voi